6, 5, 4, 3, ce la fa, ce la fa direi di momento fanno la foto con la telecamera anche oggi giornata piovosa è da quando sono arrivati piove comunque sto andando a Imacro devo acquistare delle cose per questa strada si arriva anche alla stazione dei bus di Pullman quella centrale di Attaiai proseguendo si arriva al Imacro e davanti c'è il Central Festival di Attaiai questo qui sulla destra è il centro commerciale Diana e Cinebrez c'è anche il cinema e qui al semaforo girando a destra si va alla stazione dei bus di Pullman di Attaiai e noi si proseguiamo Attaiai in queste ore quando piove c'è sempre traffico strade principali poi è grande il Central Festival di Attaiai è gigantesco veramente e qui c'è Imacro per entrare devo mostrare un documento qui a Attaiai almeno nei centri commerciali supermercati insomma tutti i parcheggi interni diciamo che siano al coperto o all'aperto devi mostrare un documento addirittura ti controllano dietro il bagagliaio se sei motorino o sotto la sella e se vai in quelli interni spesso per dire nel centro dell'Attaiai nella Walkie Street dove scoppiò appunto la bomba al centro commerciale lì a Mc Donald ora controllano anche sotto la macchina con gli specchi quindi dai documento fanno la foto con la telecamera e controllano il bagagliaio non sempre però in più ti danno questa tesserina da mostrare all'uscita ok ragazzi è parcheggiato e ora vado a fare la spesa ci vediamo dopo ciao ciao